Findus Italia fa parte del gruppo Nomad Food. Findus Italia è un'azienda da circa 700 milioni d'anno. Il gruppo invece che è un gruppo europeo che sta crescendo molto, ad oggi fattura circa 3 miliardi e mezzo, ma sta crescendo molto, soprattutto in Est Europa, acquisendo country sotto il proprio cappello. Tornando al business italiano, è un business dove abbiamo circa 25 punti di quota, è un business del Frozen dove la marca del distributore ci sta facendo male perché ad oggi ha circa 34 punti di quota, quindi è il nostro principale competitor. All'interno del nostro portafoglio ci sono marchi come Capitano, come Carletto, quindi la parte di Fun Meats, la parte di Green Cuisine che è il Meat Alternative, Fish Bar, quindi naturalmente prodotti Frozen. La mia rete è una rete piuttosto ampia perché sotto la mia figura c'è sia la parte di sellout puro, quindi sellout destinato al modern trade, sia la parte di reti di agenti con 4 coordinatori ed un team leader che lavorano sul traditional trade o normal trade, noi l'abbiamo diviso tra normal trade e special trade in base all'importanza dei punti vendita. Quindi è una rete piuttosto grande che conta oltre 100 persone. Il Frozen è una categoria che è appunto caratterizzata dal prodotto Frozen, nel senso che noi facciamo fatica a uscire dallo scaffale e creare il secondo replacement. Perché? Perché non andiamo là con un quarto di pallet, un ottavo di pallet, noi dobbiamo uscire con un'attrezzatura fredda, che non è neanche l'attrezzatura cooler, è l'attrezzatura Frozen. È ancora più difficile, consuma di più e costa di più. Questo anche in termini di durata degli accordi, quindi è un altro aspetto che non abbiamo toccato, però è un aspetto importante. Spesso sui punti vendita, sia nelle centrali di acquisto, con accordi centralizzati, sia con accordi locali a livello di punto vendita, di direzione vendita, si sta a negoziare o comunque a condividere quella che è la durata del secondary placement che viene concordato. Questa è una categoria dove si deve blindare accordi piuttosto lunghi. Perché? Perché ci sono dei costi legati appunto alla catena del freddo che devono essere poi ammortizzati. Noi come categoria abbiamo un'altra grossa sfida in termini di prodotto freddo. Se voi fate un attimo mente locale a quelle che sono poi il layout dei punti vendita, sarete d'accordo con me che spesso la nostra categoria la trovate alla fine del punto vendita. Questa è un po' una soluzione naturale dettata dal fatto che il prodotto si scongela. Il pisello quando lo trovate agglomerato è perché si è scongelato e ricongelato. Questa è una cosa che si cerca di non fare accadere. Ecco perché spesso i punti vendita ci mettono alla fine dell'area delle corsie, alla fine il punto vendita perché comunque a fine spesa il prodotto sta meno dentro il carrello. Questa per noi è una grossa area di lavoro, è una grossa opportunità che abbiamo e è quella di capire e condividere con i nostri partner come si può spostare la nostra categoria al centro del punto vendita o magari insieme ai freschi all'inizio del punto vendita. Quindi insomma è una grossa area di lavoro per noi sulla quale stiamo investendo risorse, ricerche e persone. Credo sia un punto fondamentale per i nostri business è quello della capacità di creare la giusta partnership e il giusto engagement tra sell-in e sell-out. Molto spesso anche in altre aziende o comunque condividendo con colleghi si parla di mancanza di allineamento tra il sell-in, tra la struttura sales e la struttura del sell-out. E quindi questa è un'attività che noi facciamo, cerchiamo di fare quotidianamente, quella di relazionare il sell-in e il sell-out. Qual è la parte difficile? Beh la parte difficile è quella di far sì che gli accordi che poi si prendano a livello centrale vengano trasferiti sul punto vendita. Però in questo processo è veramente la collaborazione, il parlarsi, il condividere, lo stare insieme sui punti vendita tra sales e sell-out, feed, è di fondamentale importanza. Avere la possibilità di confrontarsi su temi calvi e comuni a tutti ma su diverse categorie e quindi con particolarità diverse porta ad avere dell'insight che poi si possono trasferire appunto alle altre categorie. Quindi così fatto in forma di workshop è stato molto costruttivo.